solo in piemonte ogni cittadino all'anno produce circa 1344 kg di rifiuti fortunatamente l'83 per cento di questi non sono rifiuti pericolosi ma se noi andiamo ad aggiungere a questo dato anche i rifiuti chiamati speciali quelli che derivano dall'industria dall'agricoltura questo dato raggiunge i 2576 kg di rifiuti all'anno per abitante a tutto questo solo nel 2019